Questo breve video serve a dare un'idea di un possibile starter kit e allo stesso tempo a commentare alcuni prodotti che ho testato e che potete acquistare tramite Amazon. I link li trovate in descrizione. Cominciamo col dire che, essendo un tipo di pittura libero e sperimentale, se questo è il primo approccio, possiamo fare a meno di acquistare prodotti costosi e di qualità e puntare piuttosto su quelli economici, oppure arrangiarci con quello che troviamo. Man mano che faremo pratica e se vorremmo approfondire la pittura intuitiva, potremmo ampliare il nostro inventario con degli strumenti, dei materiali, che ci aiuteranno a fare la differenza. Ma di questo parleremo tra poco. Prima di scendere nei dettagli, consideriamo un possibile starter kit, ovvero ciò che è quasi imprescindibile e alcune aggiunte facoltative. Partiamo dai colori. Trovo che gli acrilici siano i più indicati. Con questo non voglio dire che altri materiali non si prestino alla pittura intuitiva, anzi alcuni effetti molto particolari si ricavano ad esempio dagli acquerelli, ma questi possono risultare più complicati da usare. I colori a oli offrono una brillantezza senza eguali, ma sono più costosi e impiegano giorni a seccare, e a noi serve qualcosa che si possa lavorare rapidamente. La tempera è un'alternativa, ma trovo più complicato lavorarla con le spatole. Perciò colori acrilici. Almeno i primari, rosso, giallo e blu, più bianco e nero. Può tornare utile avere a disposizione anche le tonalità secondarie, terziarie, oppure colori particolari o metallici. Vedremo che mescolare i colori non è solo utile, ma anche divertente. Tuttavia, avere dei tubetti extra che vi garantiscono l'uso immediato di una certa tinta alla massima saturazione potrebbe servire a non interrompere il flusso creativo. Cercate solo di capire quali colori possono realmente interessarvi. Non fate come me che ogni volta butto uno stipendio, insomma. Un altro acquisto facoltativo potrebbe essere una tavolozza. Tuttavia, possiamo arrangiarci usando dei ritagli di cartone, un piatto di plastica o altre superfici lavabili, come la confezione trasparente di un cd. Quando si tratta di cominciare, suggerisco l'uso della carta piuttosto delle tele. Queste ultime sono costose, ingombranti, e non è detto che ci si lasci subito andare. Anzi, potrebbe insorgere un sottile timore a sporcare, per modo di dire, il supporto. Perciò, carta d'acquerello, grammatura 300, cartoncino, o in extremis, carta da imballaggio. In quest'ultimo caso, dovremo fare attenzione a non usare troppa acqua. Tornano utili un supporto per la carta, come ad esempio una tavola di compensato o un cavalletto, e del nastro di carta per fissare i fogli. Come vedremo in un altro video, creare una cornice con il nastro garantisce anche un bel effetto visivo. Abbiamo poi tutta una categoria in cui si raggruppano pennelli, spatole e spugne, ovvero strumenti per stendere il colore. Personalmente li uso tutti, poiché il loro effetto è diverso, e ciascuno di questi strumenti può essere in verità utilizzato in più modi. Vi rimando tal proposito al video sull'uso degli strumenti. Con gli acrilici funzionano bene le setole sintetiche. Vi consiglio almeno un pennello di medie o grandi dimensioni, che vi aiuterà non solo a coprire più velocemente zone più ampie del foglio, ma anche a liberare il gesto più istintivo e superare la paura di cominciare. Ci si sporca molto con questo tipo di pittura. Meglio avere sempre della carta accanto, carta assorbente o fazzoletti, che serviranno a scaricare il colore dagli strumenti, pulire velocemente le spatole, ma anche a creare effetti particolari, stendere, sfumare, tamponare il colore, o pulire le pareti che avete appena macchiato. In ogni caso, alla carta assorbente potete affiancare un panno, destinato ai pennelli e alle spatole. Infine, almeno un contenitore per l'acqua, che potete ricavare da un barattolo, per esempio, o dalla coppetta di un tiramisù o di un gelato, ma mali estremi, anche da un bicchiere di plastica. L'ideale sarebbe avere due contenitori, uno per sciacquare i pennelli, l'altro con dell'acqua pulita, e magari uno spruzzino o un vaporizzatore da riempire con dell'acqua. A partire da questo assetto, vi descrivo alcuni prodotti che ho acquistato su Amazon, e dei quali trovate i link in descrizione. Tenete conto che alcuni articoli su Amazon possono variare nel tempo. Nel momento in cui guardate il video, qualcosa potrebbe essere stato temporaneamente rimosso dal catalogo o sostituito con altro. I blocchi di carta Canson Aquarell sono un'ottima scelta. Li trovate in formato A4 oppure A3 se vi serve un supporto più ampio. Un lato del foglio è leggermente più ruvido, e la qualità è indiscutibile. Ma un'alternativa più economica è rappresentata dai fogli di cartoncino della Craft UK. Un blocco di 100 fogli a grammatura 300 ha poco più di 10€. Non avranno una gran qualità e sono più simili a fogli da stampante, ma reggono bene il colore. Tra parentesi, sono i fogli che mi vedete usare nei video tutorial. Se c'è una marca sinonimo di qualità del colore direi senza dubbio mai meri. Si stendono bene, sono brillanti e coprenti. Meno coprenti, ma comunque di buona qualità, sono i Liquitex Basics. A tal proposito ho anche provato uno starter set, ovvero una confezione di plastica da 9 tubetti da 75 ml e 6 pennelli finiti. Questi ultimi però non li ho ancora usati. I colori comprendono i 3 primari, bianco e nero, verde, un giallo tendente ocra e un terra d'ombra. Unica pecca, mentre sfilavo i tubi della confezione mi sono accorto che un paio di questi non erano ben sigillati. L'alternativa più economica che ho trovato sono i tubetti da 22 ml dell'Artezza, i quali però sono spesso soggetti a modifiche sul catalogo Amazon, con kit da 12 tubi oppure 24. In questo caso il vantaggio è quello di disporre di un'ampia gamma cromatica già pronta all'uso. Ho testato anche due kit di spatole. Il primo, da 5 pezzi, l'ho trovato migliore nella stesura del colore. Tuttavia queste lame godono di poca flessibilità, il che ci porta a un piccolo dilemma. Qualora volessimo spurtare anche la parte superiore della lama, come spesso capita quando si improvvisa, ci troveremmo un po' in difficoltà. Il secondo kit, che consisteva in 11 pezzi, nel momento in cui monto il video è stato rimosso dal catalogo, ma ho recuperato la marca e di conseguenza un kit analogo da 5 pezzi. Queste spatole sono qualitativamente inferiori ma decisamente più flessibili. Flessibilità però non sempre significa resistenza. E di fatti sono riuscito a piegare una lama ancora prima di usarla. Spero di essere stato utile nel fornire qualche indicazione di partenza. Sul mio sito trovate una sezione in aggiornamento con questi articoli e se avete domande più specifiche lasciatemi pure un commento o un messaggio privato. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei nuovi video.